Siamo con il best practice mobile innanzitutto devo comprendere il device perché il device può essere utilizzato in diversi modi può essere utilizzato con la mano destra con la mano sinistra in verticale e in orizzontale io mando i messaggi con una mano c'era una ragazza di 20 anni, ovviamente molto più giovane di me non puoi mandare i messaggi con una mano è da vecchio, si mandano con due non sapevo queste cose per dire, quindi a seconda di viene utilizzato in maniera diversa ci sono sicuramente delle zone più facili da cliccare all'interno del nostro layout la parte centrale è diversa dagli angoli qui questa è una parte difficile soprattutto se non siete mancini avete più difficoltà arrivare nella parte alta tant'è che Scinola che cosa ha fatto? ha messo il menu a destra non l'ha messo a sinistra ha cambiato la best practice facendo questo ragionamento qui dicendo metto la ricerca nella parte più difficile da raggiungere quindi questi sono proprio dettagli però dove può arrivare? poi non studio del design ve lo faccio vedere perché non c'è mai limite alla profondità dell'eccellenza la parte media e poi c'è tutta la parte diciamo di facile touch come Nike per esempio che ha preferito mettere il menu in questo caso qui e la ricerca centrale capite anche dov'è l'above default cioè la parte visibile dell'utente perché non è detto che tutti scrollino e a seconda del device può essere più o meno lungo e magari ti interessa avere la CTA visibile oppure una parte di contenuto visibile ancora prima dello scroll bene prendete di riferimento i device più utilizzati o quelle che pensate che il vostro target utilizzi per andare a capire dov'è la linea di demarcazione alcune una piccola checklist i pulsanti devono essere almeno 44 pixel perché le mani da fatina non ce ne hanno tutte la grandezza del font almeno 14 pixel l'interlinea tra i paragrafi almeno 1,5 fate in modo che si legga bene non blocchi di testo testo contenuto scritto chiaro veloce bullet point grafichine non mattoni di testo si deve capire dove fare tap l'utente non le sa le cose che sappiamo noi o utonto a volte si è più utonto a volte utonti e pensa a entrambe le direzioni in cui uno può usare il device soprattutto sui device dai 6 pollici in su i cosiddetti phablet che è un avvenimento tra smartphone e tablet poi rimuovi il testo dalle immagini questo è un sito questa è la grafica di un sito che nel desktop si legge bene ridotta l'immagine sul mobile non si legge più quindi le immagini vanno preparate per tutti gli scalini quando si fa progettazione uno programma tutti gli scalini quindi in base ai pixel dei device è importante avere sempre le foto che si leggano utilizzate immagini vettoriali laddove sia possibile di modo che andate a scalarle e non rovinate poi la la grafica in sé dovete prevedere una variante retina perché molti smartphone oggi supportano la variante retina se l'immagine è in bassa qualità si vede male e utilizzate i pulsanti CSS per le call to action per esempio al posto che le immagini bene iniziamo con una piccola carrellata allora in home page iniziamo da devo avere possibilità di cercare subito o avere agile il tap quindi non il click il tap cerchiamo di semplificare al massimo il nostro layout le Sara mi piace come come sito perché comunque è chiaro è navigabile e i tap sono agevoli anche qui vedete quattro piccoli box poi nel momento in cui lo vado a programmare in questo caso si sposa bene già anche nel desktop nel momento in cui lo vado ad allargare buon esempio e cattivo esempio anche se in mesis è vecchio questo di mesis però giusto a titolo didattico scusatemi Baymard in questo caso riesco a distinguere le sezioni mi agevo l'altap sono ben divise tra loro cosa che qui non ho perché si sovrappongono le varie call to action quindi non metteteci troppa roba troppe cose ma semplificate lavorate su spazi e soprattutto più riempite più l'utente ha difficoltà a capire immediatamente ricordiamoci che ieri abbiamo visto una statistica di Stanford University che dice che dopo massimo otto secondi gli utenti se ne vanno ma bastano pochi mille secondi per capire che cosa sta facendo lì poi il menu navigazione non tutti soprattutto oggi magari qualcuno lo sa però il menu hamburger nel caso di Mesis quando l'ha inserito che cosa ha fatto ha messo un tool tip dicendo signore abbiamo cambiato layout anche un euro lo fa ce l'ha ancora se navigate in incognito un euro vi dice quello è il menu nuovo questa è la ricerca con dei piccoli tool tip questa è la ricerca inserisci qui la chiave perché perché gli utenti non sono preparati tanti noi diamo per scontato veramente che l'utente sia qualificato le nuove generazioni magari sì ma ancora oggi abbiamo a che fare con un target che deve capire subito quello che sta cercando ecco questi sono gli esempi di un euro prova la nostra ricerca apri il menu soprattutto dopo un cambio di design se hai del traffico specialmente se hai del traffico io vi consiglio se avete del traffico di non fare mai redesign drastici però ne parliamo poi nel secondo livello di redesign quindi stiamo ancora parlando di design iniziale del sito seguendo le best practice però avete un layout nuovo un pochino innovativo dovete anche guidarlo l'utente potete testare alternative al menu hamburger per esempio apple non ha più l'hamburger ha tolto la parte sopra quindi è un panino aperto praticamente potete fare un test insomma però diciamo che sta diventando anche un po' uno standard questo da mobile di avere oppure un altro standard è due lineette sopra una piccola scritta menu o sopra o sotto rendi comprensibile l'utente dov'è tramite i breadcrumbs ossia devo avere sempre a vista il percorso fate in modo che l'utente possa cliccare nel percorso per capire dove è arrivato nella navigazione ma anche cliccando può tornare indietro questo magari è un po' piccolo però già questi sono fatti meglio e quelli servono soprattutto lato seo sono diciamo quasi obbligatori averli quindi i cms comunque già li prevedono quindi fate in modo che siano visibili il menu di navigazione questo di diamond candles mi piace molto perché è spaziato è chiaro cliccate si apre quello di zalando che ha tante comunque categorie hanno preferito utilizzare un font non in maiuscolo però anche qui è spaziato è chiaro clicco mi si apre e mi facilita la navigazione anche quello di lesara mi piace molto tra l'altro hanno messo on top il login o la registrazione questo di arena guardate anche come è facilmente navigabile e cliccabile la ricerca interna allora la ricerca interna in questo caso che cosa fa Mesis dice questo è un test quindi si può anche riutilizzare come test dice non ti copro tutto nel momento in cui scrivi ma ti lascio uno spazzettino sotto di modo che tu non perdi completamente il riferimento della navigazione sono piccoli dettagli ma la navigazione è fatta di dettagli civetta o do finder ho fatto un video di civetta ma do finder funziona allo stesso modo come funziona sul mobile vai vedete è a tutto schermo quindi copre interamente lo schermo e vi da accesso già a tutto il catalogo è filtrabile è importante soprattutto se avete tanti prodotti e l'intento principale del vostro pubblico tramite mobile è quello di comprare dovete facilitare la ricerca del prodotto che stanno cercando quindi se avete tanti prodotti barra di ricerca grande cerca qui ricerca potenziata e facciamo in modo che trovi subito quel prodotto arriva o l'intento è legato ai contenuti dategli i contenuti l'intento è legato a raggiungere il negozio fatevi vedere il negozio quindi capite l'intento dell'utente che arriva sul vostro sito mobile e restituite gli contenuti che vuole quando fate responsive potete decidere se mettere prima o dopo un elemento di un altro ecco quello che si sta sviluppando adesso io ho Google Home ho comprato Google Home non capisce nulla l'unica cosa per quale utilizzavo era il timer per cucinare adesso non prende neanche più il timer quindi sto cercando di capire come dove lanciarlo però al di là di Google Home Alexa anche Apple al suo Echo mi sembra si chiami si sta sviluppando molto la ricerca vocale si parla di deep learning insomma di cose molto evolute sono strumenti attualmente stupidissimi che sei tu che devi dare il comando a loro in un determinato modo altrimenti non ti comprendono però da qui a X anni si aprirà un mondo sulla ricerca vocale quindi controlleremo quasi tutto vocalmente e sia Civetta che DoFinder stanno sviluppando la ricerca vocale tramite smartphone e questo aiuta tantissimo io ho visto la demo per esempio di Civetta un anno fa è una gran figata perché dice un prodotto e lui te lo restituisce insomma ci saranno sempre n problematiche legate però stiamo andando anche in questa direzione qui la ricerca vocale non so quando sarà effettivamente uscirà però c'è già tra l'altro Alessandro la tecnologia per farlo anche in autonomia sempre giusto la ricerca vocale ecco qua si stanno sviluppando anche le tecnologie diciamo che chi arriva in proprietaria ha sempre quel gancio in più di avere uno strumento un asset che lo differenzia dagli altri però quando arriva la richiesta arrivano anche le piattaforme open source e tecnologie comunque il mondo del voice search seguiamolo perché sarà sempre in evoluzione quindi probabilmente tra qualche anno sarà una prassi o comunque molti di noi compreranno tramite dispositivi come Google Home o Alexa Alexa probabilmente lo farà comprare solo su Amazon però Google Home è collegato a shopping è collegato ad AdiWords può inserire n promozioni e seguiamo queste evoluzioni perché cerchiamo di essere comunque all'interno prima possibile al momento comunque anche Google ha sviluppato ha rilasciato le SDK per i sviluppatori ma nessuno ci sta investendo quindi voi potreste farvi la vostra app o i vostri contenuti da collegare a Google Home e quindi quando cerchi chi è Alberto Scorbati ti dà l'app che hai legato allo sviluppo di Google bene detto questo anche su mobile i filtri quello che vedevamo ieri gli attributi sono una parte importante cioè io devo avere la possibilità di filtrare i miei prodotti guardate su Mesis come sono ben divisi il filter è interno quindi qui c'è una divisione quando clicco su filtro mi viene fuori una pagina interna quando clicco su sort che cosa succede? che mi utilizza questo pannello che è quello nativo dello smartphone è quello proprio nativo zalando zalando quanti filtri ha tantissimi però la navigazione è semplice quindi vado su filtra ordine ognuno di questi poi scala mentre la parte di brand mi viene fuori anche qui diciamo la funzionalità nativa dello smartphone e sito ottimizzato sito non ottimizzato Michael Kors non so se adesso lo hanno rifatto spero di sì comunque dell'anno scorso questa slide semplifichiamo cioè non riesco a navigare qui da mobile che cosa faccio? zoom un brand poi tra l'altro abbastanza conosciuto andiamo sulla pagina catalogo nel listing del catalogo devo restituire prodotti in maniera leggibile posso sfruttare lo scroll infinito quindi non arrivo in fondo pagina 2 no scroll in continuazione gli utenti sono abituati a scrollare anche 6 ore di fila su facebook quindi possono scrollare il catalogo quanto vogliono sopra gli do il filtraggio o meglio il filtraggio io lo do anche in maniera sticky cioè io lo faccio tenere sempre a vista e lo posso far scrollare quanto voglio tenete le informazioni necessarie può essere più o meno a seconda del prodotto se vendo scarpe io le recensioni se ne avete tante è una buona best practice farle uscire anche da mobile oppure questo sito è un test che cosa va vende magliette ti dà la navigazione per esempio anche solo immagini tanto il costo è 23,99 euro quasi su tutte quindi ok naviga su immagini e tolgo tutte le informazioni così ne vedo di più questo potrebbe andar bene se vendete prodotti per esempio una categoria con tutto lo stesso prezzo puoi fare un bannerino sopra tutto a 9,90 euro e fai tutte le immagini vendo prodotti componibili questo è un sito veramente fatto bene guardate come è spaziato il giusto ti dà la possibilità col tap di cambiare colore in overlay e quando avete tanti contenuti lavorate con dei tab cioè stringeteli in questo caso l'utente si va guardate questo caratteristiche specifiche accessori eccetera tutto col tap di modo che la scheda è stata anche ridotta rispetto a creare delle schede lunghissime e già magari aperte quindi mi vado a prendere l'informazione che desidero così la riduco la navigazione è veloce e per quanto riguarda le foto sul mobile e questa è una statistica di non mi ricordo di chi di Nielsen che ci dice l'importanza delle foto è un po' vecchiotta del 2015 quindi sarà ancora più aumentata la statistica l'importanza delle foto nella navigazione mobile cioè è fondamentale è il fattore più importante fino al 62% quindi ritorniamo anche a quello detto da ieri prima devo produrre materiale di qualità fotografico poi faccio in modo che sia accessibile dai device fate in modo di a volte mi capita quindi ho lasciato questa slide perché mi capita vederlo a volte clicco sulla foto e mi apre un'altra finestra sul mobile sul mobile tornare indietro significa andare a riaprire tutte le finestre chiudere e tornare indietro nella navigazione quindi lo devo tenere sempre sulla stessa pagina l'utente o utonto non sa che cliccando lì gli si apre lo zoom scrivete clicca per zoomare questo è Zalando se non ricordo male che una volta che clicchi ti dà tutta la possibilità di fare il 360 di stringere l'immagine e di aumentarla spiega come navigare tra queste per esempio c'era un'altra immagine di una di una scarpa che ti dice ok con un tooltip sopra fai lo swipe per vedere le altre foto perché magari l'utente non dà per scontato che deve fare lo swipe laterale magari ci clicca non si apre nulla ok tu hai previsto che deve navigare orizzontalmente glielo devi dire non lo dà per scontato le call to action devono essere sempre ben visibili vi consiglio di utilizzare lo stesso colore per le call to action perché l'utente deve seguire un percorso che lo porta all'acquisto e devono spiegare nel dettaglio quello che che fai sembrano cavolate però aggiungi al carrello bene testatele anche le call to action un'altra best practice è quella di tenere sempre la call to action scorrevole a vista sono nella scheda prodotto bene scrollo vado giù quindi questa è la scheda prodotto above the fold come arrivo sul sito inizio a scrollare la call to action mi rimane qui è importante oppure la potete proprio tenere fissa qui aggiungi al carrello la wish list nella moda funziona abbastanza in altri settori non vedo questi grandi utilizzi quindi vedete se lo utilizzano la tenete se non lo utilizzano toglietelo poi devono spiegare dove mi stai portando tutte le call to action puoi prevedere anche delle animazioni per esempio una volta dopo il click però che non rallentano gli utenti inserisci sempre le garanzie le rassicurazioni soprattutto in fase di check out e parlando di check out eliminiamo più campi possibili questo è il check out di diamond candles adesso l'han cambiato da 4 mesi però era molto meglio questo e come funziona questo è già il check out finito io arrivo su questo sito e mi dice inserisci la mail come inserisco la mail mi si apre sotto e mi dice ok inserisci anche la password ma dopo io arrivo qua vedo solo tre campi quando vado a scrivere l'indirizzo cioè l'autocompilazione di google clicco quindi lui mi da questo faccio un passo in avanti scusate che abbiamo installato su un sito no è sul desktop ecco perché non c'è ok comunque tramite google maps dell'api potete portarvi nel vostro check out una scorciatoia che mentre l'utente scrive l'indirizzo lui ti da già l'indirizzo completo di google cioè di maps clicchi e ti compila tutti i campi quindi non li devi compilare uno per uno torno indietro che cosa succede io qui scrivo l'indirizzo clicco e lui poi mi esplode tutti i campi mi fa vedere se è corretto o meno quindi effettivamente poi una volta che ho inserito questi tre campi li vado a vedere tutti erano 5-6 o 7-8 perché c'è il cap eccetera però io arrivo e ne vedo tre è diverso vedere tre campi e concludere un check out che vederne 8 o 10 poi questo lo consiglio sempre soprattutto da desktop nel check out dovete inserire e fate attenzione a questa cosa un numero telefonico dedicato per assistere il cliente su questa pagina ma già dal carrello e in azienda quando squilla il numero check out cioè proprio vi dovete fermare a fare qualsiasi cosa perché prendi il telefono e chiudi la vendita perché quell'utente è arrivato lì se tu gli dai lo stesso numero del centralino l'utente non sa cioè chi risponde non sa dove è magari rimane in coda vabbè lo sai che faccio riattacco ciao quindi numero dedicato su pagina carrello check out quando squilla priorità massima perché l'utente o ha un problema o vuole acquistare magari gli concludete l'ordine telefonicamente posso richiamare diverse tastiere a seconda dei form se devo inserire una data gli faccio già uscire la funzionalità con le date non gliela faccio compilare a mano se se devo scrivere un numero gli faccio uscire già la tastiera con il numero e così via se devi inserire l'orario vabbè l'orario insomma però per esempio l'orario di consegna preferito se c'è quindi richiamate le giuste le giuste tastiere date sempre la possibilità di vedere la password perché da mobile puoi sbagliarti nella digitazione quindi date sempre la possibilità di far vedere la password non date nulla per scontato è frustrante riscrivere i dati da mobile e questo l'ho detto prima utilizzate le API di Google Maps per l'autocompilazione nel checkout si paga dopo un numero abbastanza elevato di ricerche mensili non mi ricordo il numero però noi su diversi siti ce lo abbiamo non abbiamo ancora mai pagato quindi quando arrivi a una soglia di X chiamate 2000 mi sembra che siano paghi ma si paga comunque un minimo percentuale mettete i campi necessari guardate questo form da mobile qui mi ammazzo non non lo compilerò mai ma mai ma neanche guarda se mi devi pagare tu cioè me lo devi regalare il prodotto e comunque non lo voglio per non compilarlo quindi semplificate al massimo perché è una parte importante permetti sempre l'acquisto come ospite non obbligare l'utente a registrarsi farlo farlo comprare poi una volta che ha comprato questo lo rivediamo anche nel desktop una volta che ha acquistato nella thank you page lo faccio registrare e gli dico vuoi il tracking number vuoi dei benefit per il prossimo ordine vuoi questo 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 registrati ma è lui che ha interesse a registrarsi e lo faccio gli chiedo dati aggiuntivi alla fine all'inizio lo faccio comprare con i dati minimi possibili caso estremo o comunque diverso voglio fare una strategia che parte da la lead generation quindi dall'acquisizione di me li faccio registrare bene perderai magari una parte di conversioni però a parte qualche strategia doc costruita con quel motivo date sempre la possibilità di comprare oppure di fare entrambe cioè compra come ospite o senza registrazione ti vuoi registrare registra indica all'utente se sta inserendo i giusti dati o meno sono controlli semplici da fare quello che vi dicevo prima inserite qui è poco visibile inserite forme di contatto veloce qui è dove il customer care si deve concentrare principalmente poi su tutto il resto un utente che chiama per chiedere un'informazione generica è molto più lontano dalla vendita da chi chiama da questa pagina qui mostra all'utente lo step dove si trova quindi se il vostro check out non è in un'unica pagina ma l'avete sviluppato diciamo in orizzontale a step fategli vedere sempre lo stato in cui si trova è importante questo il passaggio cercate di ridurre al massimo non mettetevi 20 passaggi perché non lo compila però per esempio Just Eat ha preferito svilupparlo orizzontalmente con poche informazioni però su 4 step non in un'unica pagina qual è giusto qual è sbagliato in teoria vi dovrei dire testate quindi fate dei test e vedete quelle che sono le conversioni migliori sicuramente l'obiettivo è uno ridurre il numero di informazioni cercare di velocizzare al massimo tutta la parte di check out e di login potete utilizzare per esempio anche login con i social questo però l'ho messo nel desktop quindi ce lo ritroviamo anche lì solo che avete la mail non avete poi molto altro quindi le altre informazioni ce le dobbiamo andare a prendere però faccio già login dai social prendo già la mail posso utilizzare l'autocompilazione del indirizzo tramite google maps mi rimane il nome e cognome magari il nome e cognome me lo riesco a portare dai social già ho quasi concluso il layout se poi incomincio e lo vedremo dopo con Alessandro a inserire dei pagamenti mobile mi anticipano ancora di più l'acquisto adesso siamo nel 2018 non mancherà tanto io sono proprio lì alle porte ma stiamo andando in una direzione che l'acquisto da mobile dovrà essere one click cioè clicco e compro con l'impronta digitale bene sono sul sito lo prevedo o Apple Pay o un altro vado nel check out click finito ho già i dati lì ho già tutti i dati dentro posso utilizzare il paypal il check out veloce di paypal che ho già i dati all'interno e quindi salto in parte la parte di check out quello che dovete fare è prendere il tecnico spiegargli nel dettaglio quello che volete fare quindi ridurre al minimo il processo di check out inserire i pagamenti mobile payments che vedremo oggi con Alessandro e lavorare sempre per sottrazione per sottrazione ottimizzando in un processo costante quello che è un miglioramento del nostro processo di check out e poi questo mi piaceva perché dava per esempio la possibilità di cambiare questo è un sito che nel momento in cui io ritorno mi memorizza i dati delle carte di credito poi ve lo faccio vedere ce l'ho nel desktop per esempio paypal ha una funzione che si chiama ti ricordi quella che ti memorizza le carte one touch payment one touch login no è morto a nome specifico però ecco già paypal ha un occhio ai piedi ma ha una funzionalità che la prima volta che l'utente fa l'acquisto voi gli chiedete vuoi memorizzare i dati per il prossimo ordine sì o no se fai sì lui quando riaccede hai già tutti i dati incluso anche i dati di pagamento questo sito fa lo stesso in maniera proprietaria mi piace perché dà la possibilità di fare edit si apre la pagina con tutta la possibilità di cambiare il campo con facilità un'altra cosa che mi piace è scrivere il motivo per il quale l'utente deve lasciarti le informazioni chiedete il numero di telefono scrivete che è per il corriere perché magari uno può pensare ah dopo mi contatteranno mi venderanno le assicurazioni o le riviste polizia postale polizia sanitaria queste che telefonano tutti i giorni no spieghiamogli il perché possiamo essere anche simpatici insomma in quello che chiediamo poi dipende anche un po' dal nostro target considera sempre lo spazio della tastiera in ogni forma adesso diciamo i dispositivi mobili sotto i 5 pollici ne stanno facendo sempre meno comunque dai 4 e mezzo in su li stanno producendo dai 4 pollici in giù sono tutti nei mercati emergenti cioè tutti quelli che erano i fondi di magazzino le produzioni a metà eccetera le hanno spostate per esempio in Africa in Asia eccetera ma nei paesi diciamo più industrializzati la media è dai 4 e mezzo in su anche 4 e 8 quindi abbiamo ragionate almeno da un 5 pollici intorno a un 5 pollici l'audio mi sentite? sì allora un altro aspetto importante disabilitate l'autocorrezione nelle pagine dei form quante volte scrivete e l'autocorrezione vi cambia quello che scrivete disabilitatelo l'utente deve scrivere lui se sbaglia se ne rende conto gli mettete quell'iconcina se sta scrivendo bene o meno l'informazione per esempio c'è tra l'altro anche uno script che ti permette di verificare se il numero di telefono che inseriscono è reale o meno o la mail idem se magari dovete fare campagne per esempio di regeneration eccetera quindi disabilitate l'autocorrezione soprattutto perché andate a scrivere una via magari ha un nome strano l'autocorrettore dello smartphone te lo corregge oh questo l'ho già anticipato quindi per concludere inserite forme di contatto diretto specialmente nel check out o già dal carrello e i mobile payments per velocizzare la fase di check out poi ne parliamo di nuovo dopo state attenti a non interrompere la navigazione dell'utente con pop up quando attivate i tool di lead generation ne parliamo domani in mattina state attenti a non interrompere la navigazione agli utenti sul mobile google non lo vuole ci ha messo una x così grande questo l'ha detto google a parte che è ovvio perché dà fastidio questo sono andato su un sito mi ha chiuso completamente la navigazione google non lo vuole se proprio lo volete fare fatelo in maniera non invasiva e magari non subito l'utente arriva lo lasciate navigare gli date più libertà possibile un design pulito eccetera nel momento in cui arriva poi non so naviga dopo tre pagine che ha visto magari gli potete chiedere la mail o dopo x secondi che ha navigato al sito però lo riprendiamo poi domani piuttosto utilizzate per esempio per le promo delle barre in alto che non sono invasive si leggono bene possono essere segmentate temporizzate eccetera poi domani ne andiamo a operare in dettaglio gett'in ball in the state of mississippi papa was a copper and her mama was a hippie in alabama she was bring a hammer price you gotta pay when you bring un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti